Allora, passerei a questo punto la parola a Dottor Bessechini, amministratore delegato dell'RSE. Sì, intanto buongiorno, grazie di questo invito, di questa opportunità di presentare qualche riflessione sul tema della sostenibilità. Può dare pure l'ok, intanto non c'è niente di dannoso all'interno del file. In realtà uno è sempre in queste situazioni dilaniato inevitabilmente tra commentare tutto quello che ha sentito nel corso della mattinata e presentare le cose che voleva raccontare. E cercherò di fare una cosa in equilibrio tra i due estremi. Commentare qualcosa perché in realtà io credo che, lo ricordava bene all'inizio il direttore, il RSE ha partecipato a inizio a questo sforzo di questo indice Eureka. E l'ha fatto fondamentalmente per un motivo molto semplice. Se quello dell'efficienza energetica è una prateria molto vasta, quello della ricerca nel settore energetico non gli rimane molto indietro, anzi tende probabilmente a superarla come ordine di infinito. E la disponibilità di volenterosi che portano l'acqua al mulino della divulgazione, della diffusione, della partecipazione, a rendere questi temi il più ampio e diffusi possibile è sempre assolutamente bene accolto. Ci rendiamo conto che le forze sono limitate nel settore e che riuscire a condensare efficacemente qualche lesson learned non è così facile. Io credo che un grande merito di questo approccio sia quello di sistematizzare molto bene il percorso con cui si arriva a, ahimè, un numero. Poi vi farò vedere più avanti nelle cose che volevo dire, anche noi abbiamo i nostri indici, i nostri indicatori, qualche cosa vi farò vedere. E io spesso nelle nostre riunioni interne invoco un numero, cioè dico datemi un numero, veniamo a una, mi date un bel numerello, faccio il mio ranking e così sono sicuro che un approccio è di un tipo piuttosto che di un altro e mi scontro quasi inevitabilmente con il rifiuto categorico di darmi un numero. Perché? Perché no, non si può sintetizzare in un numero, perché l'approccio è su più dimensioni, ogni dimensione va tenuta in considerazione, eccetera. E come diceva giustamente Federico, quando poi uno prende il numero, si concentra sul numero e si sogna e si dimentica tutti i temi delle premesse maggiori o minori che aveva preso in campo. Qui però mi pare che ci sia anche un'altra interessante riflessione ed è quella del panel degli esperti, perché quello è un altro cardine non trascurabile di questo approccio. Non tanto perché esista, ma perché si può cambiare. Cioè credo che l'elemento più interessante che questo indice ha sarebbe quello di poter parametrizzare il pane degli esperti. Perché allora sì, le cose comincerebbero a diventare simpatiche perché includeremmo all'interno dell'indice o comunque del sistema anche quella variabilità nei pesi relativi che le varie dimensioni possono avere e che è tipico di popolazioni più organiche e meno rappresentative di quella che probabilmente è stato il pane degli esperti. Dico questo alla luce di un lavoro che facciamo un po' di anni fa sull'accettabilità sociale dell'eolico e andiamo a farlo nel triangolo del Fortiore, che è una zona dell'Italia che si trova tra Basilicata, Puglia e Campania, una delle poche in cui se prendete l'Atlante eolico ha senso mettere una pala eolica a girare e il problema era evidentemente quello dell'accettabilità sociale di queste pale perché sono certamente un tema impattante dal punto di vista visivo. Quello che noi facemmo fondamentalmente non fu molto di più che quello di dare un percorso organizzato e riproducibile con cui esplicitare la propria visione del problema e questo contribuì molto, non dico risolvere la questione, perché poi se uno non vuole la palla davanti non è che gli si fa cambiare idea perché gli si fa vedere l'indice, però nel portare a una discussione tra soggetti che devono arrivare a una decisione, oggettivare il percorso e la rilevanza dei pesi relativi che ogni singolo aspetto ha nel maturare la decisione è un elemento non trascurabile. Io credo che questo sia un tentativo organico, ben strutturato e per cui valga la pena di sviluppare, di proseguire oltre. Un altro breve commento lo volevo fare a quanto detto dall'amministratore delegato di Repower che mi ha riportato a casa perché io sono di Tirano, quindi evidentemente ho riconosciuto molto di quei territori e di quelle centraline idroelettriche di inizio novecento e del trenino di Bernina. Ma il tema in realtà che secondo me lui ha posto e su cui vale la pena di fare un minimo di riflessione è la questione della soggettività del concetto di paesaggio e quindi indirettamente anche di sostenibilità e come ricordava Ronchi la visione dinamica di questo concetto. Allora quando si ha a che fare con una dinamica evidentemente le questioni sono assai più delicate. Però io credo che questo sia un elemento sostanziale perché parlare di sostenibilità della centralina idroelettrica o della diga di Cancano, tanto per dire un altro aggeggio abbastanza grosso. All'inizio del novecento aveva un significato, c'era un paese che doveva elettrificarsi, aveva tutta una serie di valenze per cui il rapporto costi-benefici di quell'oggetto che andava a impattare in mezzo alle montagne in un paesaggio che non era percepito soggettivamente come particolarmente rilevante. Il turismo in montano si stava sviluppando a St. Moritz in quegli anni all'inizio. Fate lo stesso ragionamento oggi, è tutto un altro approccio, è tutto un altro tema. Allora introitare questa relatività che deriva da un percorso dinamico vi assicuro non è per niente un elemento banale ma è un elemento fondamentale. Perché si sposa con l'altra riflessione che mi pare facesse proprio sulle caverne del paleolitico Bucchiola, sulla incredibile accelerazione esponenziale dei tempi che stiamo conoscendo. Per cui noi possiamo confrontare le dighe dell'inizio del novecento con la sostenibilità di oggi e sono passati cento e passa anni. Ci troviamo oggi a discutere di interventi di flessibilizzazione dei cicli combinati, tanto per dire una cosa molto a stato dell'arte, che potrebbero avere ricadute molto diverse tra due anni perché cambia completamente la capacità di gestione di un sistema informatico che oggi adesso non c'è e tra due anni invece si rende disponibile. Quindi la percezione di sostenibilità cambia con una velocità assolutamente non confrontabile con quella che era prima. Questo ci impone di sedimentare alcuni consensi che in qualche maniera devono essere in grado di sopravvivere a questa dinamica delle tecnologie. Quindi la disponibilità di RSI che c'è e ci sarà è assolutamente per la consapevolezza che i sistemi complessi sono sistemi di pregio e che nella complessità c'è un valore. Bisogna saperla organizzare e gestire. Cerco di raccontarvi brevissimamente, risparmiando tutta questa... volevo portare due esempi del lavoro che sta facendo RSE su questi temi. Uno era una dichiarazione di impotenza, se volete, nel senso che la più recente valutazione che abbiamo fatto sull'LSIOE con l'inclusione delle esternalità ambientali manca di tutte le riflessioni che sono state fatte all'interno dell'indice URECA. Quindi questa, la dico rapidamente in questo modo, è una disponibilità alla collaborazione perché è uno spazio che si può andare a cercare di riempire con l'ambizione di riuscire a costruire tabelle come questa. Questo è uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto in cui siamo andati a prendere le COE di impianti con le varie tecnologie e abbiamo cercato, seguendo un ben noto sistema di valutazione degli impatti che è quello dei progetti externe, di aggiungergli la componente di esternalità per giungere a una valutazione di costo con l'inclusione dell'esternalità ambientale che solitamente non viene computata e non viene considerata. Ma se adesso non abbiamo il tempo, ma se avreste modo di leggere il lavoro da cui queste immagini sono tratte, l'elenco delle specificazioni, delle valutazioni, delle condizioni semplificative che il modello ha dovuto fare per giungere al numero sono evidentemente scevre mancante, sono all'ordo di tutte le considerazioni che invece abbiamo sentito questa mattina. L'altro tema di cui volevo rapidamente intrattenervi è quello di questa Smartainability, è un indicatore che abbiamo costruito in collaborazione con Expo, anzi su richiesta di Expo, perché sapete che quella è la piastra di Expo come dovrebbe essere, come ci auguriamo che sia nel 2015, sapete che l'ambizione è quella di farla diventare una Smart Grid, una Smart City in realtà, la richiesta che Expo ci ha fatto è stata, beh ma riuscite a costruire un indicatore che sia in grado di darci il senso della smartness di questo oggetto e contemporaneamente della sua sustainability? Quindi andiamo in una dimensione che incrocia o aggiunge rispetto a un'indicazione di sustainability anche una componente di smartness, cioè quanto effettivamente il sistema tecnologico che uno implementa sia in grado di dare un'addizionalità rispetto alla tecnologia disponibile ed esistente. Non ve lo sto a raccontare nel dettaglio anche perché non ne sarei capace, quello che registro è che questo è un lavoro che è stato fatto con tutti i fornitori di tecnologia dell'Expo, i principali, Telecom, Enel, Accenture, Cisco e via cantante e non sono scappati dal tavolo. Questo io già lo registro come un grande successo perché capite che quando uno si mette dall'altra parte del tavolo e comincia a dire io adesso ti dico se le tue tecnologie sono effettivamente addizionali, più smart e possibilmente anche sostenibili, la probabilità che l'interlocutore si alza e esca sia relativamente alta. Invece non sono scappati, hanno costruito un consenso su questo indice, Accenture che come sempre, che sapete essere parte dell'Expo, come sempre piace fare i benchmark, ha fatto un benchmark di questo indice di smartenability con altri indici che si utilizzano per valutare la smartness o la sustainability, non mi pare che sia stato preso in considerazione ancora l'indice di Eureka e ci siamo classificati al terzo posto su questa scala che è una scala un po' impropria perché il nostro è un indice che combina due mondi smartness e sustainability. Quindi a dire che mi pare un lavoro che ha raggiunto, ancorché nella sua infanzia, ha raggiunto un certo consenso. Cosa fa l'indice di smartenability? Mi pare che sia abbastanza intuitivo dalla crasi dei nomi qui, dalla smartness e dalla sustainability che vengono fusi assieme e sostanzialmente quello che si fa è di costruire una serie di KPI che sono in grado di cogliere alcuni benefici in termini di environment, economy, energy and living, quindi le dimensioni che riconosciamo anche delle cose che abbiamo sentito questa mattina, partendo dalle funzionalità che una tecnologia smart dichiara di possedere e possibilmente verifichiamo riesca ad implementare. Come sapete i layer di smart city sono cinque, si va da smart building e smart energy fino a services e vi faccio vedere semplicemente una sintesi di un esempio, questo è il non numero che mi propongono sistematicamente i miei, quindi un approccio che mantiene o cerca di mantenere una serie di indicatori per le varie dimensioni per quanto riguarda i KPI del primo layer di smart buildings e smart energy. Anche questa è una dichiarazione di volontà di collaborazione perché anche su questo spazio evidentemente c'è la possibilità di introitare nella componente sustainability tutta una serie di indicatori che in questo momento mancano nel sistema. Poi mi ero lasciato due slide più filosofiche che credo però Matteo Codazzi saprà interpretare meglio del sottoscritto e sono quelle di cosa ci aspetta in termini di criticità del sistema elettrico, perché sostenibilità vuol dire anche essere capaci di affrontare le sfide tecnologiche che un cambio del paradigma ci impone. Credo che per i tempi che abbiamo non sia bene che io mi ci addentri. Vi lascio soltanto alcuni titoli che ci sembrano di importanza e su cui stiamo attivamente lavorando e ovviamente con la disponibilità di discuterne a vostra convenienza e comodo. Vi ringrazio.